Allora procediamo, adesso abbiamo un intervento congiunto, credo in due fasi, io invito Gianluca Baldo dello studio LCE e Marco Piana direttore tecnico di PVC Forum Italia. Grazie. Grazie. Vi racconto cosa è l'analisi del ciclo di vita dei prodotti, dei processi in un'ottica dedicata al sistema PVC. Noi siamo uno studio di ingegneria che si occupa da sempre di seguire soprattutto il mondo industriale nel cercare di migliorare i propri prodotti in un'ottica di sostenibilità principalmente di tipo ambientale. Come avete visto tutte le slide dei colleghi che mi hanno preceduto erano spesso e volentieri dedicate alla parola sostenibilità, minor consumo di energia, minor impatto ambientale in generale. Di fatto come avete intuito si trattava mai di una variabile di competitività e non più solamente di un obbligo o se per qualcuno poteva anche sembrare una moda, ma è certamente un argomento che sta prendendo sempre più piede anche nel nostro paese per differenziare le aziende, le imprese che si occupano anche di questo tipo di aspetti. L'analisi del ciclo di vita come vedete quindi ha una logica dalla culla alla tomba, cioè vuole studiare i prodotti cercando di tenere sotto controllo ogni passo che dalle materie prime arriva fino alla tomba. Qualcuno dice anche dalla culla alla culla quando siamo in grado di seguire anche la parte di riciclo. È un po' un puzzle dove ogni tesserina ha il suo aspetto dal punto di vista ambientale. Le aziende che vogliono migliorare i propri prodotti cercano di scambiare ogni tesserina del puzzle per capire dove possono migliorare il ciclo di vita appunto del sistema che stanno analizzando. Ci sono aspetti ambientali diretti, quelli che soprattutto interessano il progettista e la fase di utilizzo del prodotto. Oggi mi soffermerò su due tipologie di prodotto che sono gli infissi e categorie tipo di condotte, tipo condotte impressione o non impressione. E aspetti indiretti che sono legati soprattutto ai materiali, ai trasporti, che è tutto ciò che riguarda il mondo che sta intorno al prodotto che stiamo generando. I valori di impatto ambientale con cui vengono misurate le performance di questi prodotti sono tipicamente la CO2, l'avete visto anche prima, il consumo di energia, ma ci sono anche tutta una serie di altri indicatori tipo il consumo d'acqua, il consumo di risorse primarie, rinnovabili e non rinnovabili, e altri indicatori che generano la carta d'identità ambientale dei prodotti. Perché le aziende e perché in questo caso il centro di informazione su PVC utilizzano questo genere di approccio? Evidentemente per capire innanzitutto dove si trovano, cioè qual è il loro impatto ambientale e di conseguenza capire come migliorarlo. È evidente che nella presentazione di oggi cercheremo anche di farvi vedere quelli che sono una serie di confronti con i competitor. Vi ho parlato di carbon footprint, water footprint e di altri indicatori, non sto ad annoiarvi su questo tema, sono indicatori oramai che fanno parte un po' anche della nostra cultura. Quando il committente finale, che può anche semplicemente essere il progettista, decide di scegliere un prodotto a zicchè un altro, automaticamente porta dentro il suo progetto un'efficienza che può essere misurata in termini di CO2, consumo d'acqua e quant'altro. Quando dico consumo d'acqua non intendo solamente poi il consumo d'acqua del rubinetto che vediamo in casa, ma tutto ciò che sta alle spalle, quello che non vediamo, che però è stato necessario per realizzare il prodotto che stiamo comprando. Tanto per darvi un esempio, se voi guardate queste tipologie classiche di prodotto, scopriamo che dietro, non so, un semplice cartoncino vergine, piuttosto che una condotta in PVC, piuttosto che una bottiglia in PET e quant'altro, il mondo produttivo ha necessità di consumare dell'acqua. Quell'acqua viene misurata, come sapete nei prossimi 5-10 anni, non si parlerà forse più solo di CO2, ma si parlerà soprattutto di acqua, che sta diventando probabilmente il nuovo indicatore di performance ambientale. Ecco, quando parliamo di LCA applicato a un sistema complesso come quello del PVC, ci serve per capire quanto impatta ogni fase che porta al prodotto finale. È evidente che l'industria, in questo caso l'industria del PVC, ha sempre dovuto confrontarsi col tema dell'ambiente, un po' perché è un'industria che ha necessità di migliorarsi, un po' perché ha necessità di confrontarsi con quelli che sono i propri competitor. Speraltro, in Italia, ad esempio, c'è un marchio Green Compound che sta a identificare tutta una serie di accorgimenti volontari che l'industria ha già adottato per evitare, ad esempio, di utilizzare metalli pesanti, utilizzare plastificanti e quant'altro e quindi già andare incontro a quella che è la normativa messa in atto sostanzialmente dall'European Chemical Agency attraverso tutta una serie di direttive europee di tipo ambientale. Vado velocemente al tema che ci porta a parlare di infissi spiegando che evidentemente anche l'infisso in PVC ha tutta una serie di accorgimenti legati al mondo del riciclo. Se ci pensate, faccio vedere qualche foto, ecco, ormai tipicamente se smontiamo degli infissi in PVC questi entrano in una logica di filiera di riciclo che porta evidentemente a recuperare la materia prima secondaria e a farla rientrare in circolo. Peraltro in Italia, torno a questo grafico qui, abbiamo l'unico impianto al mondo che è in grado di riciclare il PVC ed è un brevetto, direi, molto interessante. Si chiama Vini Loop l'impianto ed è, ripeto, un fiore all'occhiello di questo tipo di industria perché consente di nuovo di parlare di fine vita in maniera non qualitativa ma quantitativa. Se andiamo a dare uno sguardo brevemente a cosa vuol dire fare l'analisi del ciclo di vita di un infisso cioè a come si applica questo metodo possiamo farlo attraverso anche qualche confronto con materiali analoghi. Io chiedo scusa, le mie slide non sono belle come le altre però dovrebbero dare idea del fatto di cosa vuol dire applicare l'LCA a questo tipo di sistemi. Quindi si considerano la produzione delle materie prime, la produzione dell'infisso, la fase d'uso dell'infisso e il fine vita. Ora, l'esempio che abbiamo fatto a livello di confronto riguarda una simulazione a scopo esemplificativo di un infisso con caratteristiche geometriche fissate e con una trasmittanza della parte vetrata uguale per tutti prendendo tre esempi tipo legno, PVC e alluminio. Ora, è evidente che a seconda della tipologia di processo che sta dietro avremo un impatto ambientale differente. Quindi se vi faccio vedere dei risultati possono già essere di questo tipo in cui sostanzialmente il PVC e il legno hanno un impatto ambientale ad esempio in termini di CO2 equivalente molto simile mentre l'alluminio è un attimino più penalizzato perché è evidente come un materiale nobile, diciamo così, come l'alluminio che ha un'industria dietro molto ben particolare fa fatica a raggiungere gli stessi risultati degli altri nonostante si possa addirittura pensare che dentro un infisso dell'alluminio ci possa essere il 50% di riciclato. Ecco, ci tengo a dire, anche se poi non c'è più nessuno di quelli che abbiamo parlato prima molti hanno detto che nei nostri prodotti c'è fino al 90-95% di prodotto riciclato in realtà questa è una frase che spesso e volentieri andrebbe verificata proprio perché ad esempio dell'alluminio la disponibilità sul mercato non è così semplice come viene spesso dipinta e poi bisogna sempre dividere tra cos'è l'alluminio riciclato post-consumo o l'alluminio semplicemente a bordo processo dei ritagli che viene reinserito nel processo il secondo esempio di cui vi ho detto adesso non può essere chiamato riciclato ma è una semplice efficienza di processo questo lo dico perché spesso e volentieri l'ambiente e la parte di comunicazione ambientale utilizza delle frasi, utilizza dei modi di dire che sono sì di impatto ma poi una volta che devono essere verificati necessitano di alcune validazioni come appunto l'LCI è in grado di dare. Anche qui vado velocemente dicendo che sostanzialmente ciò che conta alla fine è la fase di utilizzo di un infisso e quindi anche la durata, la durabilità dello stesso sull'edificio ha la sua rilevanza. Un altro esempio giusto per farvi vedere come viene applicata la metodologia a livello industriale è quello di condotte per acquedotti e fognatura. In questo caso si è fatto un confronto tra PVC, GRESS e PIE corrugato su tubazioni lunghe con una lunghezza definita e con delle caratteristiche ben definite. Di nuovo l'LCA ci aiuta per esempio a verificare quanto in termini di CO2 o in termini di energia consumata i diversi materiali possono essere paragonati ad esempio con una dividendo l'unità funzionale a seconda della portata in condizioni di deflusso. Allora ogni materiale come vedete può essere più o meno buono rispetto ad esempio a un parametro che sono i chilogrammi di CO2 a seconda delle condizioni poi di utilizzo e di diametro che si vogliono utilizzare. Quindi il progettista può davvero scegliere i materiali anche sulla base non solo della loro funzionalità ma dell'impatto ambientale di nuovo sempre di ciclovita. Il valore aggiunto di questo approccio lo si può trovare intrinsecamente già presente in tutta una serie di etichette che voi conoscete tipo ITACA piuttosto che il LEED piuttosto che il CLIMAUSE dove questo tipo di approccio è alle spalle di background come conoscenza. Vi faccio vedere qualche esempio giusto per farvi capire come anche la tendenza sia quella di esaltare la presenza di materiali riciclati piuttosto che di utilizzo di questi metodi in fase di progettazione e vi rinnovo così la novità presente anche finalmente sul nostro mercato dove la committenza è in grado di premiare in fase di progetto con punteggi che riescono a fare la differenza tra un progetto e l'altro la parte ambientale. Cioè se il progetto per essere finanziato ha un centinaio di punti a disposizione oramai la parte ambientale ne può ottenere fino a 10. Quindi il fatto di nel progetto inserire delle soluzioni che possono portare a un miglioramento ambientale fa la differenza e permette di vincere dei progetti. Io spero di non avervi annoiato altremodo e lascio la parola a Marco Piano. Grazie Gianluca. Intanto vi invitiamo, detto che Gianluca con LCE è uno dei promotori, è una società che promuove l'incontro a Bologna sull'EPD e ciclo di vita. Potrebbe essere il modo per toccare con mano quello che vi ho fatto vedere a largo spettro un po' per tutti i componenti, non solo per l'edilizia, penso che è allargato a tutti i settori di impiego dei materiali. Io invece vi intrattengo qualche minuto solo per farvi capire che questo titolo che abbiamo inserito nell'incontro di oggi riguarda soprattutto l'energia, l'edilizia e abbiamo una scadenza a tempo. Questo quello che vedete è 20-20-20, è costruire edifici energia zero. L'abbiamo ormai assodato come riferimento da tutti i punti di vista. Quello che invece non forse è conosciuto da tutti è che il PVC ha un aspetto singolare da questo punto di vista. Questa prima foto permette di dire che con questo materiale si fanno dei componenti che molte volte passano inosservati, come quello che vedete sono barriere di passaggio di sversamenti in acqua da diversi punti di vista, come è stato fatto molte volte per coloro che trasportano petrolio o materiali particolari liquidi in acqua e questo permette di contenere molte volte ciò che vedete, ad esempio una recinzione che è fatta totalmente con prodotto riciclato. Questi due esempi ma poi ne vediamo altri. La partenza avviene, come vedete per creare questo materiale, da due materiali naturali. Uno è il petrolio e l'altro il sale. Questi due prodotti trasformati a livello produttivo raggiungono la polimerizzazione, il PVC che è quello che voi vedete, a sinistra è quella materia prima, a destra invece è la più utilizzata dal punto di vista industriale, ciò che viene messo ad esempio in un estrusore e vedete i profili o i cavi o tutto quello che si riesce a ritrovare sul mercato. La parte invece dedicata alla sostenibilità, noi abbiamo avuto la possibilità di avere come partner l'associazione europea in cui il Vinyl Loop, già citato prima, ma soprattutto la parte Vinyl Plus che trovate comunque qualche deplian di questa associazione europea senza scopo di lucro, si è in carica di recuperare tutto questo materiale a fine vita. I prodotti recuperati sono davvero importanti, si raggiungono oggi, come vedete sull'ultima riga, 800.000 tonnellate del materiale recuperato e certificato. Sono valori significative, vuol dire recuperare dal mercato un prodotto a fine vita, rintrodurlo in un processo produttivo e riprodurre sul mercato dei beni che vanno ad essere riutilizzati. È un percorso che viene fatto a livello di tutti i paesi, i cinque item che vedete, e vi lascio con questa speranza di poter ottenere dal punto di vista della dichiarazione ambientale che fa parte di Vinyl Plus, è la gestione del ciclo di vita, le emissioni additivi sostenibili, la parte dell'energia e la dichiarazione di sostenibilità. È ovviamente una dichiarazione personalizzata, vuol dire che è volontaria, significa che tutti i settori legati a questo materiale e tutte le aziende che lo producono hanno questa dichiarazione, la potete riscontrare, potete andare nel nostro sito che è un'associazione senza scopo di lucro che permette di dare informazioni corrette dal punto di vista prestazionale e di utilizzo. Ringrazio l'architetto e spero di aver recuperato qualche cosa. Grazie ingegnere, grazie a voi.